Musica Bene, salve a tutti ragazzi, qui Axo24 e questo è il terzo episodio del Let's Play di Survival Pack Il pacchetto di mod creato da me Dunque, eravamo in questo boss dungeon, che è questo villaggio come potete vedere Villaggio sospeso, ha più o meno 100 blocchi di distanza Dalla superficie terrestre e se cado siamo fottuti Ok, non voglio ancora prestare molto tempo a questo villaggio, quindi prendo quest'ultima chest che ho già visto C'è Punch2 qui, quindi ci faremo un arco e sarà molto overpower Quindi Iron Angots, Bucket e i fili finalmente appunto Vabbè, il grano non me ne faccio un cacchio Ora, se non vado errato, allora, andando di qui, forse questa non l'ho ancora notata Avrei dovuto prendere dell'ossidiana, ma ora non ho nessuna voglia di farlo Scusate Poi, qui ci sono stato per forza perché la torre di cobblestone non si spiegherebbe in un altro modo E tu, redstone? Niente, dunque, stavo dicendo X è da questo lato da porca miseria Di qui Vediamo E no, anche questa l'ho esplorata Quindi Non mi resta che trovare il punto dove sono salito e scendere Mannaggia a tutti i nerd Ah, è lì Ok Quindi se avessi Sì, ce li ho, ce li ho Perfetto, epico Devo andare a una fonte d'acqua Lì Sacrificarmi al dio dei villager No, non è vero Devo solamente sacrificare qualcosa, sì Sacrifichiamo le uova di struzzo Prendiamo un water bucket E ce ne scendiamo in maniera molto pro Perché io non avrei mai spaccato con un piccone con 10 utilizzi Allora, per chi non sa dove guardare È in basso a sinistra Potete vedere la durabilità di tutti i miei items che ho addosso Ovviamente il secchio d'acqua no Ma se io cambio sulla spada, vedete, c'è scritto 49 Fornaci 12 Perché ne ho a disposizione 12 E via, via così Via col vento Adesso Qui, non facciamo cazzatone Eh, miseria Ahia, 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 il mignolo stavo shiftando Mi fa male il mignolo Oddio Non ho i longfall boots Quanto Mi pare che servano due diamanti da Ultimamente per craftare il long Eccoli qui Longfall boot Serve due diamanti e uno di ossidiano Quindi quattro diamanti per fare i due longfall boots In pratica con questi stivali ci potremmo buttare da dove vogliamo Senza Senza prendere danno, diciamo Ok Mi riprendo anche il secchio d'acqua in maniera molto pro E ora sarò più veloce io o l'acqua? Io Magari senza affogare Porco Giuda Allora Così mi va benissimo Addio villaggio Anzi no Gli metto un waypoint Che così almeno so dove ritrovarlo Non penso sia una cosa molto utile Quindi lo nasconderò il waypoint Tuttavia Mi dà molto fastidio anche nella mappa Però sapete Può essere utilizzato come Lag Un tacchino E uno spy dry Ok Adesso Niente Ci vediamo fra poco E decido cosa fare Ok ragazzi Ho deciso che mi stabilirò qui O le Sto riuscendo a non laggare Mad Mudun Ragazzi Allora Se Nella Alla fine dell'episodio 2 C'era qualche bug Era perché Era perché Sì perché ho inserito due nuove mod Dopo aver generato il mondo Cosa che non avrei dovuto fare È stato uno sbaglio incredibile Ora mi salvo le cose prezio Sì vabbè Buckets No dai me li porto dietro i secchi Non si sa mai Mi salvo le cose che al momento non mi servono Come tutta questa armatura Gli shark teeth Obsidian e ingot Non mi serve per nulla Poi le fornaci Sì I meloni non mi servono Le frecce Neanche perché non ho un arco Le sugar canes Me le tengo Oax sapling Non si sa mai E lascia Me la tengo Poi Non ho del legno Ok non ho del legno Quindi Comincio a togliere un po' di erbacce Ok E ovviamente diventa notte Quindi si comincio a lavorare al mio progetto Il più velocemente possibile Va bene Quindi ci vediamo fra poco Quando ho iniziato questo progetto Ok ragazzi Dunque si è fatto giorno E non voglio fare la talpa E qui Stavo scavando un po' la casa Visto che la casa Non la possiamo fare di sopra Perché Con tutti I mob Pericolosissimi Che girano Non mi sembra la cosa più appropriata Perché vi assicuro Che ne girano Di quelli terribili Allora Lì c'è uno scheletro Mmm Vuol dire Potrei farmi droppare Una shard of minimum Vediamo come me la cavo Ahia ma l'acqua è pericolosa E piena di pesci Se poi si ci mettono anche i bug Porca miseria Dai Ok l'ho ucciso Non è successo nulla Ok vi do la possibilità Di indovinare cosa è successo Sì 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 avete ragione Creeper Mi ha tolto Fate mezzo cuore Scusate Tuttavia vabbè Allora Ho formato un po' di legno Hawkwood 38 Come potete vedere Adesso lo trasformiamo Abbiamo tre slot di legno lavorato Che non è male Allora Adesso Io farei in questa maniera Dobbiamo organizzarci qui Lasciamo perdere la cobblestone Che tanto quando avremo la minimum stone Non ci saranno problemi Quindi Farmare mob Non è forse la cosa più intelligente Da fare adesso Però Non lo so veramente Quale potrebbe essere La cosa più intelligente Da fare ora Molto probabilmente È Mettere una workbench Da qualche parte Cominciare ad organizzare Magari Allora Per ora qui facciamo una sala Tipo da lavoro Però vediamo Crafting table P Voglio le project table Quindi Mi serve del vetro Quanta sabbia ho? Uno Andiamo a prendere Un po' di sabbia La project table È come una crafting table Solamente che Ha qualche funzionalità in più E dopo vedremo Perché come ho già detto Voglio spiegare da zero A tutti Quindi Chi non sa una pippa Stia tranquillo Che spiego io Allora Prendiamo Sta sabbia Dannatissima acqua Ok Chi se ne frega Poi sistemerò Vedrò di sistemare anche un po' Un ingresso Al di fuori Visto che Altrimenti è bruttina Solamente così La casa Sotto terra Come una talpa E perfetto Quanta sabbia ho adesso Coniglio Non rompere 13 Quindi magari Prendo anche questo blocchetto Qui Ho detto Prendo questo blocchetto Qui Aia Struns Vabbè Pazienza Ora Andiamo a piazzare La nostra Workbench Provvisoriamente Qui Poi prendiamo Ci lascia Che tanto è quasi finita E allora Vediamo se mi ricordo Così Per ora Ne facciamo due Così E perfetto E mi manca una chest Ovvio Ma io non ce l'avevo Una chest Ora sicuramente Diventerà notte Fra l'altro Ok Prendiamo una chest E mi ripasso Allora anche Oh T'ho letto P Sì Mi ripasso anche Come si craft A sto punto Sì Ok Stavo per farla Sbagliata Ok Ho capito Ora che ho ben chiaro So che devo fare Tre Ne facciamo due Allora Crafting tables Poi Cesta E poi Perché ho chiuso La workbench Perché ho tirato Un bastone Madonna ragazzi Era Era così Così Porco Giuda Questo perché Non ho la project Bench Siamo chiari Quindi facciamo Un'altra cosa Prima Allora Trasformiamo Scusatemi se Stavo facendo casino Trasformiamo Queste fornaci In fornaci di ferro Perlomeno due Ok Quindi Ora che abbiamo due fornaci di ferro Per ora ce le Piazziamo qui Una E una due E cominciamo a cuocere La sabbia Cioè Tu mi stai dicendo Che non ho carbone Perché cazzo Perché L'ho usato tutto Per fare le torce Mi stai dicendo No Ma Oddio Ragazzi 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 Mudun Per ora Mettiamo tutto il carbone Tanto chi se ne fotte Cominciamo a prendere Sto vetro E rifacciamo Tutto Da capo Work Bench 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Eccole qui Project Bench E ovviamente Il vetro se ne va Perché non è una Project Bench Prendiamo La nostra ascia Che avevo messo qui Rompiamo Sta cosetta qui Vabbè Si Le trasformo in vetro Però dai Ah giustamente Qui avevo anche Due slot di cottura Quindi ne approfitto Per farmi un po' di Cosa faccio Stone o Baked potato Faccio Le baked potato Che mi sembra Una cosa migliore Al momento Poi Devo fare Una zona Per le Crafting tables Quindi Facciamo Così E così Ok Si poi Lasciamo perdere Sistemerò più avanti E devo Per ora Chiudermi Per ora Mi tappo In stile topo Poi Vedremo più avanti Che si fa Prendiamo Tutto sto vetro E dunque Che devo fare Adesso Ci sono Tante di quelle cose Che potrei fare Quindi apriamo La guida di Crafting Clear Detto clear Oh 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 Detto clear Vabbè Niente Back Allora Potrei fare Il grinder Si Facciamo il grinder Allora Per oggi Grinder O grinder Allora Ci serve Questo Iron funnel Che mi pare Si faccia Con un secchio Questo Allora Questo si fa Con un secchio Esatto E questo Si fa Così Va bene Ragazzi Allora Non prendiamo Le patate Per ora Ne cuociamo Solo due E mettiamo Della stone Prendiamoci le nostre patate cotte Che al momento Non ci servono E Devo fare Invece La roba con il ferro Quindi così Così Ovviamente Non ho abbastanza bastoni Ma Come potete vedere Grazie alle project bench Noi possiamo lasciare I lavori che cominciamo Quindi Ce ne basta Uno Facciamo un Iron screw Converger Converge Ecco Ovviamente Quindi per ora Scusami Piccolina Ma ti lascio Dentro un seme E ci prendiamo Questa stone Dopodichè Cominciamo A lavorare Qui Poi vi spiego A cosa serve Questo macchinario Grinder E sotto Mi pare La fornace Esatto E abbiamo Il nostro Grinder Dunque La zona Grinder La facciamo La facciamo La facciamo Di qui Però devo continuare A spaccare Va bene Sì Di qui facciamo Il grinder Il nostro grinder Eh Cos'è sto lag Va bene Dunque In pratica Questo macchinario Qui serve Per poter Craftare Alcuni Dei drop Dei mob Per ora Non ne ho Che posso fare E non me ne serve Tuttavia Andiamo a craftare Un drop Vi faccio vedere Anche come E quale Porca miseria Non è possibile Non può laggare così Ok va bene Prendiamo la stone Riprendiamoci la cobblestone Come non detto Eh Bel problema Adesso niente Dobbiamo No non posso fare Tu vai via Ci basta Anche se Usare questo È eccessivo Mettiamo 3 sticks Anzi Dovrebbe bastare Uno stick Con questa fornace Un gold rod E come vedete Cuocendo questo bastoncino Cuocendo questo bastoncino Ottimo fail Ti cuoci? Ok A re avremo Una blaze rod Sì Lupo mannaro Stai calmo Per ora Il grinder Non ci serve La blaze rod Invece Potrebbe Servirci Non dico Non dico che ci serve Nell'immediato Tuttavia Perché è tutta Questa grave Allora Sì Lupo mannaro È decisamente Rotto La blaze rod Mi serve Con l'ossidiana Sì Vediamo Altrimenti Sì vedete Per fare Gli items In ossidiana Non mi pare Ci sia Qualcosa Che possa fare Adesso Di più conveniente Con le Blades rod Ovviamente In netherrack Non li ho ancora Spawner Mi servirebbe Della Moss stone Che ovviamente Non ho E niente Per fare i barrel Dopo ci penseremo Va bene Adesso Faccio un'ultima cosa Prima di chiudere Qui l'episodio Ovvero Ci serviranno Un po' di bastoncini Questi andranno Benissimo Perché ho fatto Un bottone Ladra boia cagna Perché ho fatto Un bottone E ci serviranno Due di questi Cosa sono Questi items Si chiamano Chest transporter Penso ci sarete Arrivati tutti Servono per Trasportare le chest Senza romperli Quindi Adesso Cerchiamo di uscire Senza essere Mangiati Vivi Veramente Non ce la posso fare Non ce la potrò Mai fare Ok Ce l'ho fatta Attenzione Le chest Dove le metto Per ora Le metto Qui vicino Grinder Prendiamo L'altro chest Transporter Adesso entra Un creeper Sarebbe Epico Come vedete Ci da Lentezza Ci da Fame Lentezza Fatica A minare Però ci da Anche jump boost No Ci da Il jump boost Negativo Ovvero Che siamo Impossibilitati A saltare Ok Adesso Gli effetti Svaniscono Non chiedetemi Perché le ho messe Divise Non me ne importa Nulla Va bene Ora che ho L'ossidiana Posso chiudere Questo episodio Facendo una spada Inossidiana Qui Voi non mi servite più Ah mi aveva imparato Il crafting In pratica E Mi aveva Autocraftato Un'altra Chest Transporter Ora facciamo Questa spada Inossidiana E ora siamo Pro Quindi Da X24 È tutto Ci vediamo Nel quinto episodio Di Quinto Madonna Quanto sono Stupido Nel quarto episodio Di survival pack Quindi Grazie per aver seguito Questo video E ciao a tutti 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 Ciao a tutti